Mi chiamo Roberta Goni e sono la referente territoriale di Volabo a Imola e nel circondario. Oggi il tema del convegno di oggi, dal mio punto di vista e dal punto di vista soprattutto dello sportello territoriale, è il collegamento, l'importanza dei collegamenti. E collegamenti è anche il nome dello spettacolo che andremo a vedere alle 21. Ed è stato scelto proprio per questo, perché allo stato attuale le associazioni, anche quelle del territorio ovviamente, non possono più fare le cose da sole, non è più possibile lavorare da soli. E se vogliamo fare delle cose belle e di qualità, belle e interessanti, come abbiamo fatto finora, dobbiamo assolutamente sfruttare i collegamenti. E il mio lavoro è proprio questo, fare, creare dei collegamenti nel territorio. Ovviamente io faccio parte di Volabo, faccio parte di un gruppo operativo, il mio ruolo all'interno di questo gruppo operativo è creare i collegamenti nel territorio. e è il mio lavoro preferito, è la cosa che mi piace fare, lo faccio volentieri, e questo è il mio lavoro. Quindi posso fare anche degli esempi concreti di collegamenti che sono andati a buon fine. Proprio qui, l'aula magna, aveva l'audio che non funzionava, l'audio non andava e quindi questa cosa penalizzava chiaramente tutte le iniziative che venivano svolte, perché non si sentiva niente. Allo stesso tempo, un'associazione musicale era alla ricerca di una sede operativa per svolgere i propri laboratori. La scuola ha offerto lo spazio all'associazione, in cambio l'associazione tiene monitorato l'audio, tanto più che questo è un istituto tecnico, non c'è l'apprendimento della musica nel piano didattico, quindi loro portano anche la musica a scuola. Questo è un esempio positivo di collegamento, così come i collegamenti sono i progetti di rete, e ne abbiamo fatti tanti. Attualmente Volabò offre un servizio di consulenza sui bandi, e io posso facilitare, perché posso aiutare le associazioni nella ricerca del bando e nella creazione di una rete per poter poi fare questo progetto. Questo è il mio lavoro, quindi, cioè il mio lavoro tra tanti altri, perché il mio lavoro è anche quello di portare, di calare sul territorio i servizi che Volabò svolge continuamente, però diciamo che la peculiarità è proprio questa, il collegamento e la rete.